Verso quale direzione può andare la riflessione scientifica promossa dalla Fondazione? Con questo convegno la Fondazione celebra i 30 anni dalla sua istituzione e nel corso di questi 30 anni la Fondazione ha sempre studiato, approfondito e diffuso la dottrina sociale affrontando tutti quelli che sono i grandi problemi economici, sociali e politici che ci hanno accompagnato nel passaggio da un secolo all'altro, da un millennio all'altro quindi dalla globalizzazione alla cooperazione internazionale, dal problema dello sviluppo umano integrale oggi il problema è quello di dare concretezza alla sostenibilità nella prospettiva dell'ecologia integrale della laudatosi di Papa Francesco e si tratta di un compito di grande difficoltà perché come sappiamo oggi tutto è connesso, attraversiamo un cambiamento d'epoca in cui le transizioni che stiamo vivendo sono tante, da quella economica a quella sociale a quella ambientale, a quella demografica, a quella geopolitica e queste transizioni si intrecciano l'una con l'altra e il risultato di queste transizioni non è detto che sia quello che vorremmo tutti cioè una società più umana, più fraterna, meno ossessionata dalla ricerca del benessere materiale si tratta quindi tutti assieme come comunità di continuare a individuare come meglio orientare l'evoluzione di queste problematiche e di questi fenomeni economici così complessi verso il bene comune e questo è il compito della fondazione che nel corso di tutta la sua esistenza ha fatto dialogare dottrina sociale e scienze sociali